sono francesco de giorgio campus manager di sae institute milano il bachelor's degree in music business è un corso biennale rivolto a chi desidera una carriera nel management dell'industria musicale il corso è realizzato in collaborazione con music innovation hub impresa sociale che realizza progetti innovativi e socialmente responsabili nel settore musicale mentre il titolo è rilasciato dall'ateneo britannico university of herforshire il metodo didattico di questo percorso di formazione è il project based learning che permette di imparare lavorando a fianco di professionisti del settore e studenti di altre discipline su progetti reali per sviluppare competenze trasversali indispensabili in un profilo professionale che opera in questo settore per favorire il più possibile attività di networking molte attività si svolgono nel locale di music innovation hub in base milano le carriere potenziali del percorso di music business ricoprono diverse aree dalla progettazione alla promozione di progetti artistici complessi chi completa il percorso di studi avrà quindi acquisito le competenze necessarie per lavorare ad esempio come artist manager event manager o digital strategist il piano di studi del corso è strutturato su tre livelli di complessità crescente che corrispondono ai livelli 4 5 e 6 del sistema universitario anglosassone con i moduli di livello 4 si acquisiscono conoscenze e capacità essenziali per comprendere il music business con un focus su player dinamiche dell'industria e sugli aspetti legali dell'editoria musicale sviluppando allo stesso tempo la capacità di ascolto critico con nozioni sulla storia della popular music grazie alle competenze di marketing e produzione artistica acquisite durante l'anno si impara a sviluppare proposte discografiche e modelli di business il primo anno di corso prevede anche la partecipazione al line check festival la più grande music conference italiana per attività di ricerca e networking nei moduli di livello 5 viene affrontato il ruolo dell'artist manager dalle strategie di sviluppo di un prodotto musicale alla produzione e promozione di un evento le attività commerciali che rientrano nel livello 6 riguardano la strutturazione di progetti di innovazione per le industrie musicali e prevedono anche la collaborazione con soggetti esterni il percorso di studi si conclude con il major project un progetto individuale che riguarda la realizzazione di un evento di un'operazione commerciale o di una start up tutti gli studenti che completano il percorso di studi diventano parte di una comunità globale consolidata che celebra i risultati di professionisti creativi di talento la SAE Alumni Association scopri di più sui nostri corsi su sae.edu